Va ora in onda? Indovina chi viene in radio. Bene, buongiorno, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Indovina chi viene in radio. Quest'oggi viene una bella, simpatica, preparata persona. Lei è Nunzia Marciano. Classe 1981. Io leggo un attimino un altro libro, ma la cosa è importante. Lei è una giornalista. Questo oggi fa un passaggio velocissimo dal piccolo schermo alla scatoletta magica, che anche ha un suo fascino, credo. Buongiorno, Nunzia Marciano. Buongiorno a voi, buongiorno naturalmente a tutti gli ascoltatori di Radio Amore. Allora, noi la vediamo molto spesso, anzi quasi sempre, su Canale 8, emittente prestigiosa Campana, e si interessa ovviamente di informazione. Lei è laureata, è pubblicista, è giornalista, professionista. Negli ultimi tempi molto attenta sullo sport e sul calcio in modo particolare. Quella è una passione. E abbiamo già avuto il piacere di averti come performer, diciamo come ospite, nel nostro programma sportivo. Ma quest'oggi tu vieni qui come scrittrice, perché hai scritto un libro che a me piace tantissimo, tant'è che tu ridendo, io me lo sto leggendo, mentre prima di entrare già in trasmissione e fare questa intervista, me lo sto leggendo, perché è tutto un programma, già il titolo, single per legittima difesa. E' il sottotitolo ancora più bello. In un mondo in cui i bicipiti si buttano, i neuroni vanno cari, scegliere di stare da sole non è solitudine, è coraggio. E allora, il coraggio di scrivere un libro, da cosa nasce? Beh sì, grazie anzitutto, grazie per avermi ospitata. Sì, come appunto ti raccontavo, cercando di non disturbarti, perché ti ho visto particolarmente preso, e questa cosa mi fa piacere, che prende soprattutto... Introssa se io lo leggo, quindi poi domani ti do il mio giudizio definitivo. Perfetto, assolutamente. No, nasce in maniera anche molto per gioco, nel senso che io scrivevo questi post su Facebook, io ho una pagina, chiaramente Facebook, che è anche abbastanza privata, faccio un lavoro pubblico, quindi le cose di lavoro le scrivevo in maniera pubblica, invece le cose più personali, ai miei pochi amici su Facebook, perché poi Facebook in alcuni casi può essere anche un inferno, fra virgolette, quindi io evitavo, evito accuratamente, tutti quelli che ho su Facebook li conosco, e comunque scrivevo di queste mie disavventure, nel senso che tutto quello che mi accadeva è riferito ai maschi che ho incontrato negli ultimi quattro anni, quindi situazioni assurde, quello che è fidanzato da cinque anni, ma ti dice, sì, vabbè, ma tanto è lei che ama me mentre ti sta corteggiando, e tu dici, scusami, ma se è lei che ama te, ma tu che ruolo c'ha in questa storia dopo cinque anni, ragazzi? O quello che ti dice, sono fidanzato da quattro anni, ma niente di definito, beh, di definito dopo, di non definito dopo quattro anni ci sono soltanto i centrotavola sul banchetto di nozze, quindi va detto che comunque questi uomini improbabili, e nasceva da questi post commentati da amici e amiche, e soprattutto, lo ripeto, da amici che qualche volta addirittura volevano finirci nei miei post, e io facevo ragazzi, ma mi rendete conto di che cosa parliamo? E da lì, poi tutti scrive il libro, mi fa ridere, mi fa ridere, mi fa ridere, io non avevo nessuna intenzione di disboscare mezza Amazzonia per scrivere un libro che parlasse di maschi, poi c'è stato l'incontro invece con uno che io non considero maschio, questa è la mia distinzione, ma considero un uomo, che è Alessandro Polidoro, che è l'editore, di questi tempi estremamente difficili, beh, una cosa sono i maschi, una cosa sono gli uomini, ma a parte gli scherzi, ho incontrato Alessandro Polidoro, che è l'editore del libro, mi ha detto, guarda, questi post sono i guerini, cerchiamo di svilupparli, cerchiamo di renderli davvero un libro, e da qui nasce Single per legittima difesa, e come dico sempre, quindi se il libro non andrà bene, ne lo dico all'editore, prendetevela con quella gente di Facebook, perché loro mi hanno chiesto a scriverlo. Ti hanno spinto proprio di forza a scriverlo. No, no, è stato molto molto divertente, molto carino, e poi al di là dei post simpatici che raccontano tutte storie, ragazzi, rigorosamente vero, ma una donna del 2016 non avrà nessuna difficoltà a saperlo e a capirlo che sono veri, perché di sicuro l'è successo. Donne, se non vi è successo, siete donne fortunate, sapetelo, e poi ci sono anche questi capitoli più seri, mai seriosi, ma che affrontano un po' la degenerazione del rapporto maschio-donna ai tempi moderni, che sfocia in rapporti sempre immediati da uno smartphone nei casi migliori, oppure rapporti che sfociano nella violenza nei casi ai noi peggiori, quella che poi racconto anche per lavoro. Ecco, quindi parliamo della struttura del libro. Tu ovviamente hai fatto anche, hai dovuto citare i particolari, quindi ovviamente senza fare i nomi di questi maschietti, insomma, che comunque vengono bistrattati per quel che hanno creato, per quello che sono stati, insomma, quindi, ma qualcuno già sa, già ha saputo, insomma, del libro e che lui è parte integrante, attore, non protagonista, magari. Beh, chiariamo subito che c'è una parte nel libro in cui si danno un po' le istruzioni per l'uso di questo libro per le donne e per i maschi. È tutto ironico, è tutto sarcastico, pungente, ma ironico, in nessun momento, in nessun punto ho mai voluto offendere nessuno, ci mancherebbe, so per certo che anche le donne sappiamo essere tremende, però io ho a che fare con gli uomini, quindi parlo di questo. E la struttura del libro consente di raccontare dei maschi, ma io non cito chiaramente nessuno. Tra l'altro c'è una mia cara amica che mi ha detto però tu alla fine dovevi ringraziarli e mettevi tutto l'elenco. Ho detto, sì, guarda, lo facevo e c'era l'impennata di avvocati divorzisti. Mi avrebbero ringraziato, però mi avrebbero dato la targa onoraria. Però a parte i scherzi, racconto di questi maschi e c'è stato già uno, non so se posso raccontarle un aneddoto carinissimo. L'indomani, il libro è uscito in libreria, la Filtrineli, lo trovate un po' dappertutto, va un po' a ruba, devo dire la verità. Mi fa piacere per te e anche per Chico Reggio. Questo vi ringrazia, va un po' a ruba, però lo trovate, in giro lo trovate, se non lo trovate, lo trovate su Alessandro Polidoro, Editore.it, su Amazon, su IBS, quindi c'è, non vi preoccupate. Però esce questo libro, ancora non era uscito in libreria, avevo soltanto postato una foto pubblica in cui dicevo che avevo scritto questo libro, ricevo questa telefonata da un numero che non conosco. rispondo dall'altro lato un tizio che credo di aver frequentato un paio di anni fa, ma forse ho un ricordo vaghissimo, faccio scusa, ma chi sei? E lui fa, ma come? Non ti ricordi di me? Hai cancellato il mio numero? Ho detto, guarda, sono quasi sicura di non averlo mai segnato. E lui mi dice, no vabbè sai, ho letto lì, ho visto che hai scritto il libro, ma mica ci sono anch'io dentro, no? Così per dire. E questi sono gli effetti di single per legittima difesa sui maschi. Quindi comincia la coda di paglia di tutti i maschi che io ho sapientemente messo nel libro, ma vi assicuro che non voglio essere io la causa di separazioni, di forze, ma no, no, non vi ho citati, nel senso che chi lo legge sa che è lui, ma chiaramente la sua bella non lo sa. Senti, Nunzia, facciamo così, visto che la radio ovviamente è creatività e improvvisazione, io mi trasformo, o meglio, mi vesto nei panni dell'uomo maschio, diciamo, e che cerca di giustificare certe magagni, e certi comportamenti. Allora, la prima asserzione che faccio adesso è che sì, d'accordo, hai ragione, però non è che questa evoluzione, questa crescita, diciamo, intellettiva e sociale della donna mi ha dato un poco delle incertezze, per cui io da maschio incomincio a sentire i contraccolpi, cioè una volta l'uomo, tu sai, era padre padrone, era il dominus, poi si è visto questa donna che molto spesso lo sovrasta culturalmente, intellettivamente, va in crisi, ecco, può essere questa una delle ragioni di questo maschio che si comportano a schifezza. Va detto che nel libro c'è anche questo, c'è scritto che molto spesso gli uomini sono così anche perché noi donne abbiamo avuto un'evoluzione un po' troppo repentina, però va anche detto che se gli uomini primitivi, tu parlavi del maschio padrone, vedessero i maschi di oggi a cui noi mettiamo l'ansia, ragazzi, noi mettiamo l'ansia se li prenderebbero abbastonate sulla carotide perché è il maschio che viene preso dall'ansia, non l'uomo. Attenzione, adesso io sto facendo chiaramente un discorso tutto eronico, però c'è da dire che quello che tu dici non è completamente come dire contro gli uomini, nel senso che io ho avuto amici che mi hanno detto guarda Nunzia non è facile approcciare alle donne di oggi e qui forse dipende anche dal fatto che molte donne hanno confuso il femminismo con la femminilità. Io sono completamente d'accordo nella parità di diritto tra uomini e donne e ci mancherebbe altro ma forse troppo spesso si è presa una deriva troppo femminista. Donne e uomini sono diversi ringraziando a Dio non fosse altro che perché noi abbiamo i neuroni e voi no però detto questo che fanno sinapsi tra l'altro però detto questo la deriva del voler essere troppo femministe ha portato appunto a maschi che non sono più uomini che quindi hanno completamente paura. C'è il mammone praticamente che vedeva nella donna la mamma in effetti poi improvvisamente vede invece è quasi un antagonista che spesso va in crisi brutta e questo forse un po' è colpa anche nostra di noi donne e del nostro femminismo così come viene citato nel libro però va anche detto che così come diciamo il capitolo forse un po' più particolare del libro quello in cui si parla degli uomini che fanno cilecca perché donna è capitato a tutti nel libro si racconta che va bene a non poter essere uomini in posizione eretta che è un po' colpa anche di noi donne della nostra femminilità che sfociano il femminismo ma se a questi uomini non gli riesce neanche da supini allora no veramente abbandonateli e rieccoci di nuovo qui in diretta Nunzia Marciano nostra ospite single per legittima difesa il libro che sta presentando con notevole successo è il caso di dirlo e diciamolo pure Nunzia Marciano è giornalista televisiva volto noto al pubblico della campagna ma fa di tutto e di più perché è una giornalista ed è una persona preparatissima allora torniamo ancora al tema del libro io maschio non uomo cerco una seconda scusa sai di questi tempi non c'è la sicurezza del posto di lavoro salvo pochi eletti non ho certezza in casa mia con papà con mamma ci sto alla grande perché dovrei avventurarmi nel crearmi un rapporto stabile andare a vivere insieme a un'altra persona andare ecco dal certo all'incerto e anche questo è affrontato nel libro devo dire che secondo me l'hai letto tutto mentre stavamo parlando l'ho immaginato evidentemente allora perché proprio il primo capitolo del libro racconta un po' quelle che sono le categorie di uomini da non frequentare e tra le categorie ci sono tra i toy boy i tirchi patologici gli sfigati i mammoni che non vanno frequentati assolutamente e poi ci sono soprattutto anche quelli che tu li vedi così carini bellini sistemati fino a che loro non ti dicono però sai dai vivo con i miei che in fondo si sta comodi ora facciamo una divisione fra le due cose il momento è chiaramente particolare per cui chiaramente ci sono delle difficoltà economiche per cui è difficile in qualche modo farsi una propria vita soprattutto per i maschi soprattutto in un mondo in cui le donne sono sempre più evolute vedi che al bar o al ristorante pagano le donne che mi sembra un gesto bruttissimo perdonami io sono vecchia guarda è una cosa che non ammetto bruttissimo cioè va bene il femminismo già dividere un uccetto figurati un poco va bene il femminismo ma al ristorante vedi tu cioè non scherziamo le buste della spesa le sali tu quindi non è quello il punto però va detto che una cosa appunto ci sono queste difficoltà è una cosa è quello che mi fa il discorso io ve lo assicuro è una telefonata vera in cui mi diceva no vabbè ma è importante perché poi il femminismo è importante bisogna essere delle donne emancipate ma anche gli uomini devono essere emancipati perché comunque basta con questo essere mammoni no vabbè ma non è possibile a un certo punto è il telefono poi sento dall'altro lato senti ma la zuppa di latte come te la preparo faccio scusa ma chi è eh no mia madre perché poi sto comodo qua in casa quindi ragazzi vi assicuro che è una telefonata vera mi stai scherzando perché va bene quando c'è una difficoltà chiaramente economica ma io ti parlo di gente che non avrebbe nessuna difficoltà però sai poi io resto dai miei perché poi sai in fondo si sta comodi e questa comodità viene presa anche come una scusa io me l'immagino questi genitori che gli danno i calci per farli andare via soprattutto i padri mentre le mamme che strano abbiamo qualche difetto anche noi donne a un certo punto dimenticano di essere state le mamme sono combattute diciamo dal fatto di volerli vedere andare via anche perché poi diciamo la verità un ragazzo di 30 35 anche 40 anni in casa vuole vivere la sua libertà mette una casa a suo quadro eccetera le mamme che sono quelle che gestiscono la casa non è che si è firme per tanto compiacere il padre è più portato a dire fatti una tua famiglia fatti una tua famiglia sì no ma è chiaro ovviamente anche perché poi se l'uomo non esce di casa cioè il maschio a quel punto non esce di casa non dà la possibilità ad una donna di infelicitarlo tutta la vita per cui è importante che voi usciate di casa così le donne si vendicano delle vostre malefatte sposandovi perché quella è la vendetta che poi le donne ci prendiamo poi gli mettiamo in casa la suocera e la cognata e a quel punto abbiamo consumato la vendetta è la vendetta che si consuma senti Nuzia ma sostanzialmente quindi evitando un evitando un altro evitando anche quello lì con la tartaruga il muscolo sorpito e poco cervello cosa ne rimane poi la scelta si riduce al massimo la scelta si riduce a due fondamentalmente ad Antonio Banderas e all'idraulico quello che per Antonio Masia però Antonio Banderas è in forno a biscotti quindi ci toccherà rompere la lavatrice apposta veramente carina dai e continuiamo sempre in questo discorso semiserio insomma le donne ritorno di nuovo uomo maschio le donne quali responsabilità hanno in questo diciamo difficile connubio uomo donna io ti dico una cosa adesso lo dico da uomo oltre che da maschio le donne hanno bellissima questa cosa di distanza senti uomo maschio no no io la faccio questa differenziazione perché sai dicevo il mio padre dicendo un po' per essere rompere mentre lui si maschia ma ce ne vuole per essere ma è vero se lo era a quei tempi oggi lo è ancora di più ma obiettivamente diciamo la verità le donne hanno però un grosso problema vorrebbero che il maschio l'uomo fosse un figlio di buona donna diciamo caratterialmente però poi con loro dovrebbe essere buono il figlio di buona donna è il figlio di buona donna sempre qui poi casca l'asino mi pare che questo sì ecco perdonami una posizione giustificativa da parte del maschio cioè voi molto spesso magari trovate anche i ragazzi che potrebbe essere interessanti però trovate in quel caso no ma quello che è brutto non è guardabile sia intelligente però discriminate sotto questi aspetti però quando arriva ecco devo usare un termine perdonatemi napoletano ma qui in radio molti lo sanno usiamo spesso il termine il piscione come dice la ragazza oggi perché il piscione non deve essere considerato magari un bravo ragazzo anche con valori importanti eccetera però perché è un po' un buscetto non so se hai capito quello che voglio dire io parto dal presupposto che le donne sanno benissimo quello che vogliono noi donne sappiamo assolutamente cosa vogliamo quando lo vogliamo perché lo vogliamo e come lo vogliamo che poi tutto questo cambia ogni 5-7 minuti è soltanto un dettaglio però in quei 5-7 minuti noi lo sappiamo anche perché incontriamo un uomo nessuna donna guarda un uomo per quello che è lo guarda in prospettiva di come può farlo diventare quindi noi lo guardiamo sempre così poi impiega noi ci mettiamo 3 minuti a capire tutti i difetti degli uomini il resto della vita lo passiamo a cercare di cambiarli inutilmente però in 3 minuti abbiamo fatto lo screening quello che tu dici è assolutamente vero però voglio dire noi donne siamo belle così siamo dolcemente complicate non completamente idiote e se gli uomini ancora si innamorano di noi vediamo chi sta messo peggio io devo dirti la verità sono stato un antesignano di quello che ha sempre riconosciuto la superiorità della donna sotto ogni punto di vista lo dice la scienza lo dice la scienza ma io dico anche una cosa anzi sono preoccupata a volte perché la donna in questo impeto di recupero a volte si maschilizza pure anche nelle cose peggiori cioè io sostenevo fino a 20 anni fa avevo un'attività nelle quali le donne erano discriminate io da responsabile davo spazio alle donne avevo grandi soddisfazioni su cui dicevo la donna essendo più lineare e meno incline al magheggio ai sottobanco oggi ho visto che le donne stanno crescendo anche disegraziatamente da questo quindi rubano anche le giudicesse le politiche eccetera mentre prima io avrei messo la mano su fuoco dicevo la donna è sicuramente esempio di rettitudine di correttezza forse perché non aveva questa come dire maschilinità proprio tipica inclina al magheggio all'imbroglio a che ne so situazioni complicate anche sotto certi aspetti insomma guarda adesso fuori di metafora e fuori di ironia del discorso che facevamo prima la deriva troppo femminista delle donne va bene conquistare tutti i diritti ed essere pari ma io adesso faccio comunque un esempio perché è quello che mi viene più lampante c'è un capitolo nel libro in cui si parla di sesso senza per cinque pagine mai citare la parola sesso io parlo per cinque pagine di questo senza averla mai citata e non è stato una volontà non è pudore assolutamente figuriamoci con i tempi che corrono però è stata quasi naturale l'idea io odio le volgarità proprio come come persona e credo che una donna adesso tu stai facendo il discorso del sotterfugio piuttosto che della tangente piuttosto che della cosa così nella vita sociale e nella vita pubblica ma io credo che una donna che metta così in piazza e parli di sesso di relazioni estreme così come un uomo ubriaco alla taverna del bar ne perde assolutamente non acquisisce diritti perde femminilità quindi questo è chiaramente una mia idea è chiaramente io su questo sono forse concedetemi il termine lo metto tra virgolette un po' maschilista nel senso che non puoi avere l'idea di voler essere femminile di voler essere donna se poi diventi come un uomo perché siamo diversi ma viva Dio va bene conquistare tutti i diritti lo ripeto e lo ripeterò per sempre ci mancherebbe altro ma non conquistare i vizi degli uomini ma non conquistiamo il peggio noi siamo così fortunate da avere la femminilità che è una cosa meravigliosa che non è assolutamente legata all'occhio azzurro di una donna o alla gamba di un metro e venti un sacco di coscia da un metro e venti non è assolutamente quello io conosco donne bellissime che peccano in femminilità e donne che tu non diresti che rispondono ai canoni tradizionali di bellezza ma di una femminilità estrema quindi donne siate eleganti siate femminili e vedrete che magari qualche maschio che forse un passetto più avanti lo fa certo non parliamo di quelli che ti mandano 8656 messaggi su facebook twitter whatsapp qualunque cosa e poi non alzano il telefono neanche a pagarli quindi questo è un po' quello che succede quando si ha a che fare appunto col maschio socializer anche troppo però forse noi donne in questo siamo andate un po' troppo alla deriva e io non sono molto d'accordo soprattutto quando si parla appunto di un argomento come il sesso di cui io parlo nel libro ma senza mai citarlo e non è pudore lo ripeto è perché noi donne siamo eleganti dobbiamo esserlo single per legittima difesa oltre ad essere il titolo ovviamente del libro è anche un concetto espresso in maniera chiarissima allora esprimilo un'altra volta tanto per essere chiari allora lo esprimo così come lo esprimo nel libro perché se un uomo ti martella martellare ovviamente sappiamo che cosa vuol dire ti manda messaggi ti invita a colazioni pranzi cene comunione del nipote funerale del prozio ti invita a qualunque a qualunque cosa e tu sei lì e poi ti viene il dubbio dici scusami un dubbio ma fai che sei non è che tu sei fidanzato sposato impegnato o qualunque altra cosa che finisce in ato fosse pure incapacitato e lui fa sono fidanzato perché se tu lo uccidi ti assolvono per legittima difesa bellissima questa senti e ti è capitato l'uomo tra i tanti campioni diciamo che si sono fatti avanti quello risposato però è una storia ormai chiusa poi non ti preoccupare prima è un classico immagino assolutamente mi è capitato proprio qualche sera fa è stato meraviglioso sono in crisi scusami in crisi no ma ma sai sono in crisi ho detto ma cosa sei l'Italia dei tempi nostri nella politica che sei in crisi non sei in crisi poi magari tu vedi che sono in crisi e no però sai mia moglie è incinta tra una crisi e un'altra tra una crisi e un'altra no però sai ci stiamo lasciando di che stiamo parlando poi fai faccio guarda tu stai tentando fra virgolette di tradire tua moglie in questo momento con me e no però sai con te sarebbe diverso tu mi prendi faccio sì abbastonate sulle falangi se non te ne vai subito mi prendi cioè quelli riescono a dire tu mi prendi mentre stanno cercando di tradire la fidanzata perché ragazzi ricordiamoci le donne soprattutto se un uomo tradisce lei con te oggi domani tradirà te con un'altra è la regola non fa eccezione Angelina Jolie figuriamoci se facciamo eccezione noi senti adesso io ti invito a cercare quel messaggino di quel bimbo e vediamo se possiamo mandarlo per radio in effetti è un bambino che col tuo libro in mano insomma allora questo è un bambino meraviglioso tra l'altro tutti mi stanno chiedendo ma chi è ma chi è ma chi lo conosce io non lo conosco cioè nel senso che mi è stato mandato su twitter questo messaggio da un utente il papà si chiama Giovanni e il bambino si chiama Antonio e ha 4 anni ragazzi voi dovete ascoltare questo bambino non potete vederlo perché siamo in radio che ha il libro in mano quindi al libro il single per legittima difesa alle sue spalle c'è il lungomare di Napoli quindi dimostra che è sul lungomare di Napoli e che lo sta facendo da uno dei posti più belli del mondo sentite cosa dice anche io l'ingra benedittima di perla no è meraviglioso io mi permetto di farlo risentire proprio per chi se l'è perso questi 4 secondi vediamo se riusciamo a farlo risentire lui si chiama Antonio ed ha 4 anni ascoltate ed è meraviglioso guardate io sono rimasta veramente un testimonia d'eccezione tra l'altro mi è arrivato anche il messaggio del papà nel senso sempre su twitter che è una cosa meravigliosa e mi scrive tutto ciò che single per legittima difesa racconta messo in pratica sarebbe un futuro migliore per loro lui è Giovanni su twitter Giovanni De Falco una cosa meravigliosa ragazzi veramente un bambino che è stato fantastico mi ha fatto tanto ridere peccato che poi crescerà e diventerà anche lui un maschio e diventerà per adesso un uomo per adesso un uomo i bimbi sono veramente un maschio a parte gli scherzi c'è il mio nipotino io sono la zia ovviamente non ho bambini però sono la zia c'è il mio nipotino che si chiama Francesco Pio che è una meraviglia di bambino e carino e ogni volta che lo vedo dico a mia cugina faccio guarda ma che peccato questo creaturo debba crescere e le fa no ma io così faccio guarda è troppo un amore gentile carino poi crescono e praticamente i neuroni finiscono cioè si bruciano e gliene restano tre Nunzia Marciano single per legittima difesa Alessandro Polidoro editore allora viste che tu sei anche pubblicitario hai fatto comunque la pubblicità fai uno spot per invogliare le persone quali sono i motivi per cui debbano comprare questo libro le donne speciali ma anche tu ma guarda gli uomini devo dire la verità perché gli uomini sono quelli che lo stanno comprando di più allora le donne chiaramente per ridere per sorridere per capire che non siete voi le sole e non siete voi le sole quindi soprattutto per questo per ridere anche per riflettere magari un po' su quello che ci succede e gli uomini per imparare qualcosa se non fosse altro a chiamare una donna se avete detto che l'avreste chiamato a non chiamarla e a non dire che la chiamerete se sapete già che questo non succederà poi nel primo caso le donne possono sempre menarlo appresso ad un uomo per la sua ennesima malefatta gli farà male ma non troppo quindi non rischiate la galera e gli uomini possono usarlo per difendersi ovviamente dalle donne che gli lanciano una cosa appresso lo spot è ovviamente ironico è carino acquistatelo veramente per farvi una risata e per riflettere io ringrazio se mi permettete in maniera davvero profonda Alessandro Polidoro che è l'editore che ha reso possibile tutto questo è con lui appunto lo dicevamo prima che nasce dal post di Facebook nasce dalla cosa carina lui mi dice guarda prova a sviluppare i post prova a scrivere qualcosa da lì molto invogliato appunto da lui che ci ha visto lungo devo essere sincera è un uomo ma ci ha visto lungo strana questa cosa e quindi è lui che ringrazio chiaramente e poi do l'appuntamento alla presentazione perché tutto questo il libro ancora non è stato presentato e quando c'è già una data assolutamente c'è già l'evento il libro sarà presentato venerdì 30 settembre a partire dalle 18 al Circolo Canottieri di Napoli al Molosiglio e mi permetto di dire che c'è anche un parterra molto particolare tra i relatori ci sarà l'assessore alle pari opportunità del comune di Napoli Daniela Villani poi ci sarà Rino Ventriglia che è lo psicoterapeuta secondo me bravissimo consentitemelo che ha scritto la prefazione del libro e lui aveva scritto dei libri appunto sui rapporti di coppia assieme a sua moglie e quindi mi faceva molto piacere che ci fosse anche una visione che fosse al di là dell'ironia poi a cercare di difendere gli uomini a provarci ci sarà il bravissimo attore Lucio Pierri parlavamo prima della comicità la sua è una comicità intelligente e per questo una persona molto intelligente poi le letture saranno a cura di Roberta Ciancio e l'intrattenimento musicale l'intrattenimento musicale sarà affidato a Gennaro Romano De Lettisfatti a moderarci tutti ci sarà Giovanni Chianelli che è un giornalista e ci saremo naturalmente io e l'autore scusatemi l'editore Alessandro Polidoro quindi una bella chiacchierata l'evento è aperto venerdì 30 settembre alle 18 al Circolo Canottieri di Napoli al Molosiglio ci saremo ti faccio una domanda il rituale quando uno ha fatto agli usi non dovrebbe fare te la faccio se arriva il corteggiatore e si presenta in maniera diciamo tradizionale magari commissionando una bella serenata oppure che viene col fascio di fiori cioè che pensi è scemo è fuori luogo è bravo mi piace il tuo pensiero beh per i primi 5 minuti finché non apre bocca sicuramente ne sono affascinata poi incominciano a parlare lì è il dramma che si consuma ciao ringraziamo Nunzia Marciano single per legittima difesa da Antonio Romano è tutto ciao grazie Nunzia grazie a voi sono sentita veramente a casa se posso dirlo grazie mi fa piacere ciao a tutti da Antonio Romano alla prossima avete ascoltato indovina chi viene in radio a risentirci al prossimo ospite pura di amor grazie a tutti